ciao allora oggi vedremo come realizzare la ottupla maglia alta allora prendiamo 8 volte il filo sull'ucinetto 1 2 3 4 5 6 7 e 8 andiamo nella nostra maglia desiderata infiliamo l'ucinetto e portiamo su infiliamo l'ucinetto passiamo sotto a 2 prendiamo il filo passiamo sotto a 2 e col Teniamo il filo, passiamo sotto due e con l'ultimo andiamo a chiudere, quindi eccola qui. Adesso lo rifarò. Una, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto. Ed eccola qui. Spero che questo video vi possa essere utile, ci vediamo al prossimo video, ciao! Se ti è piaciuto il video iscriviti e seguimi anche su Facebook, Twitter e lo shop. Ciao!